Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare la nuova edizione di De Vulgari Eloquenzia, gioco di Mario Papini e edito da GiochiX, che io ringrazio di cuore, grazie ragazzi per avermi offerto una copia per la recensione e grazie ovviamente della collaborazione che stiamo portando avanti da tempo. Grazie, onoratissimo come sempre. Quella che vedete qui davanti è la versione Deluxe, uscita dal Giochi Starter, ed è una nuova edizione, rinnovata, arricchita di contenuti e soprattutto in questa versione Deluxe mi è piaciuto da morire, ma ve lo faccio vedere ora durante l'unboxing, ci sono delle monetine in vero ferro. Sono delle figate assurde e sono proprio delle riproduzioni delle monete appunto dell'epoca. La storia ovviamente del gioco, vediamo l'Italia nel tardo medioevo, laddove soprattutto come lingua commerciale stava venendo fondata una nuova lingua che era appunto il volgare, come vi ricordate, perché non tutti ormai parlavano più l'antica lingua latina, o comunque non tutti per la maggior parte la comprendevano e quindi c'era bisogno di andare in un nuovo tipo di linguaggio fatto sì per unificare tutta quanta una nazione o comunque tutti quanti i popoli, i Granducati e quello che erano, ma soprattutto di trovare una lingua comune per il commercio dell'epoca, un po' come l'inglese e altre lingue importanti di oggi che sono appunto lingue soprattutto commerciali. E quindi ci fu questo interesse a creare e soprattutto a diffondere in tutta la nostra penisola la lingua volgare che poi ovviamente era una lingua plasmata dai tanti dialetti che c'erano in Italia, infatti a seconda delle regioni si parlava un tipo di volgare differente, però comunque era una lingua che doveva iniziare appunto ad accomunare tutti come lingua comune. E lo scopo del gioco è guadagnare PV, che potrebbero essere visti come punti vittorio e anche punti volgare per diventare un personaggio famoso in questa ambientazione qui dove partiremo come mercanti ma ci sarà data anche la possibilità di entrare a far parte del clero della chiesa e perché no magari invece di provare la carriera come mercante provare la carriera clericale per poi passare magari da un normale prete a un vescovo arrivare perché no poi ai più alti vertici del Vaticano come addirittura nel turno finale del gioco un papa ed è un gioco molto interessante di 120 minuti, sì, assolutamente sì, da 2 a 5 giocatori di un'età compresa dai 15 comunque fino dai 15 in su e l'età secondo me è stata azzeccatissima perché è un gioco complicato. Allora le regole sì sono un po' complicatine stavolta non sto a dire sono semplici ma no no, sono un po' complicatine però va bene, basta una partita o due e le fai tranquillo, cioè è una cavolata, sono cose già riviste anche in barrage è semplicemente dove assegnate i punti e le vostre risorse che avete per guadagnare appunto punteggi e fare azioni però forse la parte un po' più complicata è appunto l'ambientazione, questo è un gioco stramega fortemente di nicchia che non è assolutamente un gioco per tutti ma per i fanatici di un gioco del genere secondo me è un pezzo d'oro soprattutto in questa nuova versione deluxe. Unboxing, il regolamento proprio illustrato benissimo e soprattutto pieno zeppo di eventi quindi regola descrizione con foto regola descrizione con disegno quindi è spiegato benissimo perché è complicatino ecco non è un regolamento che si vede tutti i giorni dalla forte componente appunto tematica dell'ambientazione dell'epoca e quindi c'era bisogno comunque di arricchirlo con svariati esempi però ve l'ho detto un po' alla fin fine cioè se andate a vedere le regole principali sono 6 pagine, 5-6 pagine, sono poche però ci sono diverse cose da tenere a mente schede repilogative che ci vengono un po' incontro per farci vedere la sequenza del turno che come vedete è particolarmente articolata e poi dietro ovviamente tutta quanta la leggenda per le cose che si possono fare ad esempio il salterio, il commercio e poi una delle più importanti che è l'indovinello veronese tabellone di gioco con la nostra bella e fiorente e ricca forse non tanto all'epoca forse sì penisola e poi ve la faccio vedere ovviamente molto meglio aperta uno sbotto di token e di pezzi ovviamente da mettere, ha messo alla reversa scusate, da mettere sulla mappa vedete qui tutte quante le figure del clero mazzi di carte, insomma non ce ne sono neanche tantissime quindi non si rischia nemmeno poi tanto di mettere troppa carne al fuoco token di legno colorati che servono ai vari giocatori ovviamente per segnare le proprie azioni sulla mappa la parte più figa, cioè sentite il rumore e ora vi faccio cadere, no sembra proprio di essere un fiorino, un fiorino ti ricordi il film guardate là ragazzi dammi uno spiccio dammi uno spiccio signore cioè monetine guardate che figata in vero ferro col simbolo ovviamente di Ducati dietro no vabbè guardate cioè vere monete bellissime veramente belle 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 da morire un paio di token e personaggi speciali che sono stati messi come una specie di stretch goal in questa versione giochi starter quindi una cosina in più e poi guardate anche bellino all'interno della scatola come è fatto veramente un gioco molto 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 curato e molto caratteristico vi faccio vedere un po' come gira un turno ragazzi quello che vedete è il setup veloce ovviamente perché non vi faccio tutorial, non li voglio fare vi do soltanto un'infarinatura del gioco anche se poi finisco sempre per fare dei tutorial alla fin fine comunque questo è il setup iniziale per una partita a 4 giocatori il gioco si può giocare anche in 2 tranquillamente quindi non vi preoccupate, scala anche bene comunque qui abbiamo setupato una partita per 4 giocatori e vediamo nella fattispecie il primo tracciato che vedete qui è il tracciato degli eventi dove con un setup particolare dovete mettere tutte quante le carte event dove vedete ci sono i nomi delle città tipo Napoli, Sassari e quant'altro più i 5 eventi papali in fondo che devono essere girati casualmente a faccia all'ingiù tutti gli altri invece in successione a faccia in su le risorse che avete qua giù vedete che dovete metterne quanti secondo il setup che vi dice per 3, 4, 5 giocatori più o meno comunque nei primi 7 turni della partita quindi queste sono le risorse che saranno a disposizione dei giocatori nei 7 turni appunto nei primi 7 turni della partita da quest'altra parte vedete i manoscritti che dovete dividere ovviamente le vedete qua giù per il numero che c'è sopra che va da 1 a 4 quindi crescente 1, 2, 3, 4 qui devono essere formati dei mucchi a faccia all'ingiù sulla parte blu che è un colore uguale per tutti e poi ne dovete pescare casualmente 4 che vedete sono i vari colori che ci sono per appunto creare i manoscritti quindi ne dovete prendere 4 e scoprirli del valore quelli di 1 qui, quelli di 2 qui e così via mettete tutti i tagli delle monete qua giù così ce l'avete apportata di mano per tutte nel taglio 1, 5, 10 e qua giù mettete le tessere dei 5 mercanti che vedete qua su in cima e le 5 tessere frate questa è una cosa che vi servirà più avanti poi dovete mettere questi qui mescolarle e metterle casualmente nelle 5 città francescane che sono praticamente il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi e le dovete andare a mettere nelle 5 città francescane che sono Urbino, Celano, Gubbio, Assisi e Cortona le andate a mescolare e poi le mettete sopra praticamente vedete c'è un numero sopra questo vi fa presente quando queste città francescane si apriranno, diventeranno attive nel turno quindi questa nel turno 6 questa nel turno 12 questa nel turno 2 perché ci sono delle azioni ovviamente portando appunto alla conoscenza del volgare tutta la nostra penisola quale miglior modo che studiare antichi manoscritti scritti appunto in quella lingua quindi magari roba di Dante Alighieri oppure anche roba di San Francesco d'Assisi e quindi leggere queste cose vi darà punti volgari che vi aiuteranno per andare avanti nella partita e poi qua giù vedete i tracciati di tutte le azioni che si possono fare quello più importante è la biblioteca papale quindi anche qua giù dovete impilare dovrebbero essere 10 se non erro tutti quanti i tomi della biblioteca papale e li dovete mettere qua su in cima questo è il setup iniziale comunque vabbè il setup iniziale è una cavolata il gioco ve lo spiega bene in più a ciascun giocatore dovete dare 20 segnalini di legno del suo colore in questo caso mi piace il verde e scelgo il colore verde li dovete dare 20 di questi tondi per ogni giocatore e in più li dovete dare i suoi 3 meeple che sono appunto il meeple del mercante perché vi ricordo che in questo gioco tutti si parte come mercanti tutti del primo all'ultimo poi però se qualcuno va a provare a diventare frate o a fare la carriera appunto ecclesiastica per diventare papa lo può fare e infatti vedete c'è anche la miniatura del chierico del prete quindi le cose che dovete dare inizialmente sono queste 3 pedine che poi è la pedina che si muove sulla mappa insomma per tenere conto dove siete e invece questi cubetti di legno servono vedete ogni posto a un tondo come vedete no? le azioni praticamente che si possono fare e quindi magari se abbiamo già fatto l'azione per andare nella città di Arezzo e prendere 6 di cultura perché vedete le città che hanno un libro con un valore sono città di studio sono città di cultura sono città universitarie quindi dove si può rialzare direttamente il valore del volgare quindi quello che serve per acculturarti mentre invece dove vedete tipo a Roma che c'è sia un libro ma anche una monetina sono città commerciali dove vedete un ancora invece sono città portuali come ad esempio a Roma da dove è possibile fare uno spostamento sulla mappa spostandosi da un posto all'altro quindi da un porto A a un porto B con una sola azione e ovviamente pagando una piccola tassa per lo spostamento però potete spostarvi di grandissime insomma distanze sullo stesso mare non è che potete partire da Venezia nel mare adriatico e finire nel mar Tirreno a Roma sto giro non si può fare sarebbe un mezzo giro del mondo però ovviamente si potrebbe che ne so partire da Venezia e sbarcare a Brindisi con una sola azione quindi in questi tondi qua sulla mappa servirà a metterci questi token che avete delle azioni che una volta usate non le potete riprendere quindi alla fine quando ce l'avete messo lo dovete lasciare lì per ricordare appunto che in quella città avete già fatto l'azione e non la potete più fare e vi serve anche per tenere un conto del tracciato poi lo spostamento del vostro personaggio finché è un mercante usate questo sulla mappa finché invece un prete lo cambiate con quest'altro quindi comunque il funzionamento è facile durante il proprio turno ciascun giocatore può spendere tanti punti azione quanti sono i propri segnalini quindi quelli che vedete qui li può spendere nel proprio turno e le azioni che si possono fare sono ben 11 che sono cammino manoscritto politici nobiltà badesse copisti che è la stessa cosa e ve lo faccio vedere dopo salterio commercio indovinello veronese corriere oriente cantico delle creature biblioteca papale e riposo ragazzi le cose da tenere a mente sono tante ma non vi preoccupate c'è il foglio qui che ve le ricorda 1 a 1 quindi comunque 1 per giocatore da lato bellino cartoncino spesso ve lo tenete accanto e andate una scheggia comunque tutte le azioni possono essere eseguite una volta soltanto nel turno del giocatore quindi ipoteticamente potete farle anche tutte è impossibile avere una possibilità comunque se avete la possibilità le potete fare anche tutte queste azioni però ricordatevi soltanto una per turno le azioni cammino commercio corriere oriente biblioteca papale salterio politici nobiltà badesse copisti e riposo quindi la maggior parte possono essere svolte ovunque si trovi il personaggio quindi in qualsiasi location si trovi vedete poi ah un'altra cosa importante le location sono divise per colori che è un'altra cosa che state visitando se vi ricordate anche nelle tessere manoscritto sono divise per colore perché sono i colori praticamente del dialetto che potete trovare in quella zona per quanto appunto la vostra missione sia un po' espandere il volgare ovunque che sia comprensibile da tutti sprecando un'azione ci si può muovere di un territorio adiacente o come vedete in una zona portuale ci si può muovere da un porto a un altro spendendo tre punti azione e quindi vi spendendone direttamente tre vi potete spostare tranquillamente da un porto a un altro quindi come vi ho detto prima anche da Venezia potete andare direttamente a Brindisi con un solo viaggio però dovrete sprecare tre punti azione che sono praticamente questo taglio qui vi ricordate vi ho detto la monetina c'è da 1 da 5 e da 10 questo qui è il taglio da 10 quindi per movimenti superiori a un'azione c'è da pagare anche il pedaggio ci si può viaggiare via terra e via mare anche nello stesso turno quindi uno potrebbe partire da Arezzo andare a Roma e da Roma imbarcarsi per andare a Napoli però ricordatevi più di un movimento quello che dovete spendere un'altra azione un giocatore può prendere nel suo turno uno di questi manoscritti però ovviamente c'è una regola e c'è una limitazione un giocatore può prendere solamente manoscritti che abbiano un valore di comprensione pari o inferiore al suo valore di conoscenza il numero indicato sulla tessera manoscritto indica il valore di comprensione come vedete sono divisi nei tagli come vi ho detto 1 per i vari colori 2, 3 e 4 poi la conoscenza può essere alzata o direttamente dalle tessere evento che vedete qua giù o anche dal bonus di conoscenza che ci dà una città come vi ho detto ci sono alcune città che quando ci fermiamo è una città commerciale ci dà un bonus di 15 monete mentre invece ci sono altre zone che ci danno sotto un bonus di conoscenza ricordatevi che potete prendere un manoscritto solo e soltanto quando è pari al vostro livello l'attuale di conoscenza ogni manoscritto però occhio è legato a un colore della zona dove siete quindi io qui a Roma non posso prendere un manoscritto di questo colore verde perché lo posso prendere a Brindisi o a Napoli però ad esempio io in questa zona potrei prendere un manoscritto di colore giallo oppure potrei prendere un manoscritto che arrivano soltanto quelli più alti a livello 4 quindi inizialmente non ce l'avete però con un doppio colore vedete questo tipo di manoscritto si può trovare sia a Napoli che a Brindisi come anche a Roma Assisi perché è diviso da due colori giallo e verde ricordatevi che nella zona dove siete potete prendere manoscritti solo ed esclusivamente del colore di quella zona lì poi per apprendere una tessera manoscritto quelle prese ciascun giocatore deve spendere un puntazione per valore del manoscritto quindi uno per una tessera a livello 1 quattro per una tessera a livello 4 e così via quando sono stati presi tutti i manoscritti di un livello facciamo conto che quelli di livello 1 sono finiti i manoscritti vanno a scalare quindi questi vanno su ovviamente si spostano questo va su questo va su questo va su e quelli sotto di conseguenza e scala anche il costo quindi ovviamente sono nella colonna 1 questi non costano più 2 ma costano 1 quelli nella colonna 2 che poi sono i 3 costeranno 2 e così via quindi li dovete scalare tutti quanti e il costo si abbassa quando sono stati fatti scalare tutti verso l'alto tutti dal primo all'ultimo e avanza un posto in fondo dovete mettere il manoscritto lingua volgare che vedete è un manoscritto che costa 8 quindi per prenderlo anche questo dovete per forza avere un livello di conoscenza di cultura pari a 8 e ovviamente anche lì dovete sempre rispettare il colore e una volta che quello l'avete preso quello varrà 8 poi per ciascun turno vedete qua giù in fondo le risorse che vi dicevo sono disponibili un tot di risorse che sono poi politici la nobiltà le badesse e i copisti a seconda del colore e non sempre sono disponibili perché vedete magari in un turno potrebbe non capitare qualcosa comunque i politici sono quelli con i cubetti marroni che vedete in fondo la nobiltà ovviamente quelli con i cubetti blu sangue blu poi ci sono le badesse che sono i cubetti rosa e i copisti che sono i cubetti invece turchesi quelli lì celestini ad esempio abbiamo i politici che sono i cubetti marroni che una delle due azioni che possono fare possono essere addirittura usate alla fine per incrementare il valore finale dello stupor mundi che vedete che è questa tesserina qua giù possono essere utilizzati per incrementare il valore per l'elezione finale a fine partita perché a fine partita vince il giocatore che si ha più punti ora poi vi faccio vedere il tracciato più punti sul tracciato della vittoria che poi sono punti v che sono punti vittoria o punti volgare però bisognerà anche vedere per avere punti in più se uno sarà eletto il miglior mercante oppure anche potrebbe provare la carriera politica come pape e cose del genere ottenere ad esempio un cubetto marrone nel caso dei politici ci costa un puntazione e 30 ducati quindi dovete pagare le monetine dovete utilizzare un puntazione per andarle a prendere e ad esempio per prenderne due dovete spendere due punti azione e ad esempio invece per prenderne due invece si quadruplica il puntazione perché diventano quattro punti azione però dovete spendere sei ducati quindi quelle alla fin fine sono risorse come abbiamo visto anche in Lorenzo il magnifico della crani ad esempio che voi potete andare a prendere tutti i turni per poi metterle da parte ovviamente sono ad esempio le badesse vi possano dare una mano quando finite in zone prettamente di chiesa quindi dove ci sono abbazie segnate sulla mappa e cose del genere politici per il favore politico ad esempio i cubetti turchesi che sono ecopisti ogni volta che finite dentro un'abbazia li potete lasciare nell'abbazia e convertirli come punti conoscenze insomma ci hanno diverse azioni che comunque quelle sono tutte quante dettagliate e scritte nel manuale però i cubetti laggiù in fondo come risorse sono la parte più importante poi la parte più importante del gioco sono tutti i suoi pezzi perché alla fin fine gli eventi sono quelli che vi danno punteggio i luoghi che visitate sono quelli che vi danno soldi e vi danno anche punti conoscenza i manoscritti sono quelli che vi danno punteggio volgare però ricordatevi anche e soprattutto che le azioni che potete fare possono cambiare perché laddove un mercante andrà in una zona tipo Roma e prenderà punti conoscenza e soldi se deciderete di fare la carriera clericale quindi diventare un frate i frati vivono di elemosina quindi non potete più essendo un mercante andare a vendere e prendere soldi di qui ma prenderete unicamente punti conoscenza e i soldi non li potete prendere perché i frati non prendono soldi non sono mercanti non sanno contrattare né vendere però possono prendere soldi nel turno dell'elemosina che è un passo successivo e quando andranno a finire in chiese in abbazie in conventi e cose del genere ovviamente avranno sempre dei bonus rispetto a una sosta che potrebbe farci un mercante poi abbiamo il turno cioè la quarta possibilità d'azione che è il salterio indipendentemente dalla posizione del suo personaggio quindi ovunque si trovi ogni giocatore può spendere un punto azione per studiare il salterio il giocatore pone un segnalino azione sullo spazio azione salterio quindi un giocatore può prendere il suo dischetto azione e metterlo direttamente sulla vedete qui sull'azione del salterio e prendendo quest'azione come vedete fa avanzare il suo livello di conoscenza sul tracciato di tre punti il tracciato dei punti è questo qua giù in fondo che vedete quindi all'inizio ci mettete tutti quanti i dischetti dei giocatori e poi piano piano li fate muovere per fare ovviamente il giro mappa e più andate avanti più punti guadagnate quindi il salterio è una delle azioni che ti fanno guadagnare punti conoscenza c'è il commercio anche qui indipendentemente dalla posizione del suo personaggio ogni giocatore può spendere un puntazione per effettuare un commercio il giocatore pone un segnalino azione sullo spazio azione commercio e riceve dieci ducati dalla banca quindi un giocatore metterà un suo segnalino qui e prenderà dal commercio dieci ducati dalla banca quindi come vedete anche le azioni che si possono fare sono tutte scritte sopra quindi anche qui non vi dovete preoccupare ad esempio nel caso della nobiltà vedete che vi vengono dati qui c'è il valore di risorse che vi vengano assegnate nel caso delle badese c'è scritto accanto tanto comunque c'è sempre o scritto il livello di conoscenza o i soldi o il tipo di risorsa che poi viene richiesta o assegnata quindi comunque quella è un'azione facile un'altra azione è l'indovinello veronese però che si può fare solo ed esclusivamente nelle città del nord che sono quelle blu Genova Pavia Milano Venezia e Bologna a Bologna ovviamente ha il livello di cultura più alto vedete segnato sulla mappa addirittura 15 perché ovviamente la famosa università di Bologna quindi come a livello culturale è quello che dà più punti in assoluto però quando siete in una delle zone delle città del nord potete avanzare sul tracciato dell'indovinello veronese che sono tutte cose che ovviamente vi danno punti conoscenza e per ogni punto azione speso ovviamente fate muovere il vostro dischetto sul tracciato l'indovinello veronese è un altro dei modi veloce o meno che comunque è tutto un gioco di logistica non tanto di come si spendono le risorse in fondo ma di come si spendono le azioni che è la cosa principale più importante anche perché in certi posti chi prima arriva meglio alloggia in questo gioco per davvero e è un modo come un altro appunto forse uno dei migliori per guadagnare facilmente punti l'azione del tracciato del corriere per ogni punto speso anche qui come in tutte le azioni che potete fare per ogni punto azione speso si va avanti nel tracciato quando dovete arrivare nell'ultimo dovete spendere un cubetto rosa quindi dalla vostra risorsa più 10 ducati e una volta sbloccato questo tracciato qui aprite la città di Bologna che è la città di Bologna che vi ho detto la città culturale più famosa di quel periodo lì appunto dove potete prendere il maggior numero di punti volgari anche lì e soprattutto di conoscenza che è la cosa più importante al fine della vittoria nella partita l'aprite soltanto quando arriverete in fondo a questo tracciato qui quindi arrivando in fondo al tracciato del corriere avrete accesso alla città di Bologna c'è la missione l'azione oriente ovunque si trovi un giocatore però ricordatevi ancora una volta il manuale chiaro ci dice alcune azioni le potete fare come mercanti alcune azioni le potete fare come frate in questo caso level frate si parla sempre del mercante c'è l'azione oriente anche qui a seconda delle azioni spese e ovunque si trovi quindi non in una zona portuale può mandare avanti il commercio con l'oriente quindi anche qui muovendosi di un tot di spazi a seconda del tot di azioni del numero di azioni che verranno utilizzate quando arriva in fondo nel tracciato finale il giocatore riceverà 10 ducati subito ovviamente in più 10 ducati da ogni città in cui il giocatore ha già preso il bonus commerciale quindi mettiamo caso che il giocatore da Napoli ha preso il bonus commerciale da Brindisi ha preso il bonus commerciale e visto che ci siamo sopra ce ne metto un altro da Roma ha preso il bonus commerciale quando avrà finito questo tracciato prenderà anche 10 10 e 10 prenderà altri 30 ducati oltre a quelli che ha già preso arrivando a fine del tracciato appunto commerciale con l'oriente tracciato del cantico che può essere fatto avanzare solo se un giocatore si trova in una delle città francescane che tanto sono quelle l'avete visto con il simbolino del cantico accanto che si aprono secondo i vari turni quindi se si trova in una zona appunto in una città francescana può fare avanzare sempre con un'azione per ogni pallino di cui si muove il cantico delle creature anche qui ovunque si trovi un giocatore può avanzare sulla biblioteca papale che è questa che vi ho fatto vedere dove all'inizio in fase di setup dovete mettere i i dieci manoscritti papali tutti impilati a faccia in giù ricordatevi per riconoscerla tanto è la faccia quella blu che deve stare a faccia in su quando si arriva vedete ci sono tre numeri uno due tre praticamente gli ultimi tre pallini quando un giocatore arriva nell'uno due o tre pesca tante tessere dal manoscritto della biblioteca papale quanti sono i numeri sotto nel caso uno ne pesca uno nel caso due ne pesca due tre e così via facciamo conto e le pesco tutte e tre perché sono in tracciata finale ne pesca tre le rigira solo lui le deve guardare non le deve vedere nessun altro ne pesca tre e ne può scegliere solo una quindi magari sceglie la tre che è quella col valore più alto e le altre due poi dopo le rimpila e le mette sotto ovviamente a faccia in su e questa la nasconde dietro il suo divisorio e nella sua parte del tavolo perché questi saranno i punti conoscenza che il personaggio avrà in più da aggiungere a quelli suoi appunto a fine partita nel conteggio quindi questa è proprio una mera azione che ti fa guadagnare dei punti e ti deve andare anche bene insomma perché oltre che ci spendi azioni quando arrivi in fondo devi sperare insomma che ci sia un valore abbastanza alto in alto o se no tracciato del riposo anche qui facendoci muovere per ogni zona un punto azione chi ha il valore di riposo più alto si porta a casa di essere il primo giocatore del turno successivo ovviamente come vi ho detto per ogni volta che guadagnate punti conoscenza fate andare avanti il dischetto e ovviamente ricordatevi sempre che il giocatore che ha speso più azioni nel turno di riposo è uno di quelli che nel turno successivo vogliono muoversi per primi arriva la fase vento dove voi dovete muovere il segnalino che tiene il conto dei turni lo potete mettere sopra così insomma come vi pare a voi tanto vi ricordate turno 1 turno 2 turno 3 e così andare avanti il turno successivo si sposta l'indicatore appunto del turno per andare alla fase vento successiva dovete pescare la tessera evento ovviamente del turno corrente e metterla vicino al vedete sono tutti quanti quadrettini colorati alla città citata quindi in questo caso la mettiamo a Venezia ricordatevi che 6 per una partita 4 giocatori è il massimale dei cubetti che possono stare in fondo tutti i cubetti non comprati nel turno precedente vanno nello slot del turno successivo e questa forse è la parte un pochino più lunga e macchinosa del gioco perché facciamo conto che noi questi 4 cubetti li abbiamo presi noi nel senso i giocatori li hanno comprati per fare le loro azioni tutti questi due avanzano non rimangono qui non vengono buttati ma si spostano il primo posto disponibile qui no perché ce ne è 6 6 6 quindi qui non ce le potete mettere nel caso qui ce ne fossero stati 5 uno dei due poteva andare qui allora li spostate direttamente al turno successivo andando appunto dove ci sono posti disponibili in questo turno c'è alcun personaggio che ha fatto la scelta di diventare un frate quindi sulla mappa che viene tolto il mercante ed ora in avanti viene rappresentato come frate può fare dopo la fase degli eventi può fare la fase dell'elemosina un personaggio frate riceve un'elemosina di 5 ducati e un personaggio cardinale che è quello ovviamente che è già andato più avanti nella scalata al potere clericale riceve un'elemosina di 10 ducati dal mercante più ricco quindi il frate prende 5 ducati dalla riserva quella che ha a disposizione di tutti i giocatori mentre invece il cardinale prende 10 ducati dal giocatore attuale mercante più ricco quindi il giocatore mercante più ricco deve per forza di cose dargli 10 ducati però ricordatevi che il cardinale riceve l'elemosina dal mercante solo se è più povero del mercante perché nel caso il cardinale sia molto più ricco ma anche di una manetta sola del mercante in questione o di tutti i mercanti presenti non prenderà l'elemosina l'elemosina le viene riconosciuta solo se effettivamente è più povero del mercante più ricco dei giocatori attuali e poi ci sono tante azioni in più che si possono fare comprese e anche soprattutto le azioni gratuite ora ragazzi ve lo dico sinceramente non è un gioco facilissimo da spiegare infatti vi invito a prendere con le pinze ma proprio in punta di piedi questo video solo per cercare di farvi capire insomma se è un gioco che vi può interessare o no ma non lo prendete come tutorial perché non è un tutorial ed è un gioco anche leggermente complesso non è difficile ragazzi però è un gioco abbastanza complesso che anche sbagliare una regola magari l'ho sbagliata a dirvela in questo video vi può rovinare tutta la partita le cose più importanti sono a me mi ricorda questo gioco molto da vicino Lorenzo il magnifico della cranio perché tutta una corsa guadagnare punti spendere risorse nel miglior modo possibile muoversi sulla mappa per prendere i vari bonus e poi ovviamente tutte le azioni che potete utilizzare sono azioni semplici come il movimento con l'azione della città ma anche tutte le azioni che avete segnato sul tabellone per prendere poi risorse oppure per prendere punti conoscenza o per prendere punteggi sotto forma di libri papali testi sacri e quant'altro e ricordatevi che quando visitate una città francescana nel turno corrente dovete girare ovviamente anche il foglio del cantico per far vedere insomma che questa città qui è stata visitata e l'azione è stata fatta quindi non è un gioco facilissimo però secondo me è un gioco fortemente tematico in conclusione ragazzi è un gioco complesso però occhio ancora una volta mi sento di dirlo non è difficile perché se deve andare a vedere giochi difficili e l'ho detto tranquillamente un gioco difficile questa è una cavolata una stupidata al confronto un gioco difficile era Serebria Serebria era un gioco che ti scivoleva cioè troppe osi da tenere a mente o anche la primissima versione di Assalto Imperiale senza l'app che insomma ci avevi da tenere troppe cose a testa secondo me una persona quando fa un gioco da tavolo io mi immagino quello che torna dal lavoro più che il ragazzino che magari ha tanto tempo libero però uno che torna dal lavoro 8-10 ore alla sera si vuole un attimo rilassare quindi comunque i giochi devono essere veloci e lineari ora non magari come Iroquessi dove ti riundade tutto è legato a quel cavolo di dado però magari cerchi anche ecco di mediare un po' quindi non è un gioco difficile come regola anche facile però è un gioco complesso ed è un gioco è una scacchiera è una partita a scacchi con gli altri devi calcolare bene tutte le mosse da fare anche perché il primo che arriva e ti finisce manoscritti buona il primo che arriva e ti finisce l'azione del turno attuale francescana buona anche lì il primo che ti finisce tutti quanti e prende i migliori punti dalla biblioteca papale se anche lì c'è capito oppure il primo che spende tutti i punti nel commercio con l'Oriente e quindi dalle città dove ha preso appunto già i soldi del mercato ripiglia cioè è lungo capito dovete stare molto attenti secondo me è proprio una partita a scacchi con la morte veramente questo gioco perché basta anche una mossa sbagliata per perdere la partita ora ripeto ancora una volta non è un tutorial non lo prendete come tale metterò anche un disclaimer e tutto quanto è un gioco che vi ho voluto dare un'infrenatura anche perché questo forse fra tutti i giochi che ho ricevuto ora questo De Volgare Eloquenzia e Shombrun della Giochi Uniti sono i giochi in assoluto più di nicchia che ho anche perché questi sono giochi che non sono da tutti cioè questo non lo puoi portare oh stasera si fa una partita magari c'è quello gioca a Dixit quello gioca a Zombicide boh e quello nel mezzo gioca non lo so un gioco di carte non ce lo puoi mettere nel mezzo perché questo lo devi portare da degli amici che veramente gli piace questa ambientazione ad esempio io di tutti gli amici che ho ce n'è soltanto uno che gli potrebbe interessare un titolo del genere o comunque forse due esagerando però comunque ha una fortissima componente appunto storica e culturale devi averci anche insomma una certa cultura per fare sto gioco per rionoscere un po' le cose per sapere anche il contesto dove ti muovi e quindi assolutamente è un gioco un must have per tutti i fanatici di questa ambientazione però non è un gioco per tutti proprio lì zero assolutamente se le devo dare un voto per cosa ne penso e premetto subito che non è un gioco da me perché io non sono da questi tipi di giochi però devo dire la verità nelle meccaniche l'ho trovato meno originale su certe cose e tanto originale su altre mi piace molto molto l'idea del tracciato dove ci devi mettere punti azione però l'abbiamo già visto in altri giochi però mi garba da morì l'idea che io parto come mercante posso diventare il migliore dei mercanti che c'erano nell'Italia dell'epoca oppure posso fare anche la carriera clericale e provare a diventare il papa cioè non è brutta come missione che uno si può prefiggere cioè tanta 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 roba e poi sta figura qua giù in fondo riora un po' l'imperatore di guerra e stellari quindi è bellissimo e Palpatine e mia moglie che ride dietro poi vabbè ragazzi paura le monetine sono bellissime cioè nemmeno alle feste medievali davvero a parte gli scherzi quando le scambi con soldi vere l'ho mai vista così l'ho mai vista così che sono della collector della deluxe e quindi il gioco comunque per quanto non sia assolutamente da me ricordo che riconosco che c'ha un appeal veramente forte ed è veramente realizzato da paura anche la mappa la mappa la potete prendere e l'attaccate dentro un quadretto è veramente spettacolare quindi se devo dare un voto a un gioco del genere do assolutamente un 7 e mezzo su 10 meritatissimo però occhio ragazzi cioè guardate questo video per farvi una piccola idea ve l'ho detto non è un gioco difficile dimenticatevelo ma è un gioco veramente veramente complesso quello si ci sono tante cose da tenere a mente infatti ragazzi ricordo che per quanto ovviamente cerco sempre di darvi delle regole del gioco il mio è un canale di nemmeno tanto recensioni di cosa ne penso non è un canale di tutorial o how to quindi quello assolutamente no però comunque se vi faccio vedere in gioco cerco anche un po' di spiegavolo anche perché come fa una capista il gioco li può interessare ci sono giochi belli e ve lo dico perché un po' mi dispiace ci sono giochi belli come pedine e tutto quanto tipo lobotomi che vedete lì dietro belli da morire di pedine fatti bene e tutto però che come regole fanno un po' schifio detto sinceramente quindi se non ti spiego le regole te lo compri per le pedine e poi magari il gioco è una sciofeca e non ti garba comunque tranquilli non è il caso voto meritatissimo e trovate il primo link in descrizione dove acquistarlo io ancora una volta ringrazio la giochi X per averci un offerto questa copia per le recensioni grazie ragazzi sono in onore di collaborare con voi e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento sotto il video ciao ragazzi alla prossima